Musica La macchina rimane sempre una macchina performante, il problema è spingere che devi rischiare un po', però bisogna divertirci, cosa più importante La macchina è assolutamente la cosa più importante, MRE per Bosotti e Gatto, con questa vettura che è una turbo oltre 2.0 di cilindrata 4x4, non ha kit di allestimento come l'R5 che permettono di avere un cambio sequenziale, un'elettronica particolarmente agevole e un peso Dalla loro sono macchine che tendono a essere più pesanti, quindi a galleggiare un po' di più, a setti molto più morbidi, ma certamente La macchina è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più La macchina è un po' di più La macchina è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più Grazie a tutti.